81 vite spezzate in volo, quelle di 81 passeggeri, che non sono mai arrivati a destinazione. A 36 anni dalla strage di Ustica, il disastro aereo sul quale pesa ancora l'ombra del mistero, si ricordano oggi le vittime partite da Bologna e mai atterrate all'aeroporto di Palermo. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, invoca la verità su quanto accaduto, rivolgendosi a Daria Bonfietti, Presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime della Strage di Ustica. E' una domanda di giustizia quella che le famiglie rappresentano, a cui devono corrispondere le istituzioni nazionali e quelle estere chiamate a collaborare. Resto un mistero cosa accadde quella sera del 27 giugno 1980 al DC9 Italia. Lo scorso gennaio il Tribunale Civile di Palermo, con tre distinte sentenze, ha condannato nuovamente i Ministeri della Difesa e dei Trasporti a un pagamento da 12 milioni di euro per risarcire le famiglie dei viaggiatori defunti. Per i giudici palermitani sarebbe stato un missile ad abbattere l'aereo. Poco più di un'ora prevista per arrivare a destinazione e a soli nove minuti dall'atterraggio l'esplosione. I detriti furono avvistati la mattina seguente alle prime luci dell'alba. Mantenere ancora oggi il segreto di Stato su una delle pagine più buie della nostra storia, ha riferito il Sindaco di Palermo e Presidente di Anci Sicilia, Lelucco Orlando, è la prova del fatto che qualcuno dentro lo Stato ha molto da vergognarsi e molto da nascondere per quanto avvenne quella notte nei cieli italiani. E mentre Bologna ha previsto una giornata di commemorazioni, in Sicilia risponde Marsala, dove si rinnoverà alla presenza dei familiari il ricordo delle vittime, con il lancio dei fiori in mare e l'affissione di una targa commemorativa. Grazie a tutti.